Siamo con Davide Tizzano, vicepresidente della federazione sul bacino del Lago Varesi in occasione dei mondiali master. Ma io volevo partire l'intervista da lei parlando del suo passato di atleta e tra questi Seulo e Atlanta. Chiaramente fa parte del bagaglio che ognuno di noi si porta dietro, però la cosa importante è riuscire a trasmetterlo ai ragazzi, ai giovani, alle ragazze che provano a fare lo stesso percorso. Quindi questo è un po' quello che ci siamo prefissi, riuscire a trasmettere la nostra esperienza ma anche il nostro entusiasmo che rimane vivo anche dopo qualche anno. L'Olimpiade è qualcosa di unico, forse è il traguardo più importante per un atleta, per uno sport come il canottaggio. Guardiamo in avanti però ci ricordiamo del passato. Veniamo ai mondiali master qua a Varese e essendo lei vicepresidente della federazione l'obbligo è fargli una domanda riguardo l'organizzazione di questo evento. Noi siamo assolutamente orgogliosi della macchina organizzativa messa in piedi per questi mondiali master, ma è una macchina collaudata, abbiamo visto all'opera già l'anno scorso agli europei. Quindi siamo tranquilli e sereni che in funzione dei prossimi eventi internazionali ci sarà un livello molto alto. Tra l'altro il feedback che stiamo raccogliendo sul campo durante questo evento è importante, sono tutti molto soddisfatti. Devo dire che va spesa una parola a favore dei volontari che sono veramente l'arma vincente di questo motore, ma soprattutto dei dirigenti e di tutti quelli che stanno dando una grossa mano a partire dai soci della canottaggio di Varese, ma non solo. Anche gli albergatori della zona si stanno prodigando per dare un servizio eccezionale. Questo campo di gara ha visto l'anno scorso gli europei, quest'anno mondiali master, il prossimo anno mondiali anni 23 e penso che siamo in dirittura d'arrivo anche per una gara di Coppa del Mondo. L'accordo che abbiamo messo sul tavolo con il presidente Galli, la provincia di Varese, ma anche la regione Lombardia con Antonio Rossi, proprio quello di dare continuità a questo campo sia per quanto riguarda gli eventi ma anche per l'attività di formazione degli equipaggi. L'anno prossimo siamo per concludere questo accordo che vedrà la nazionale Ander 23 qui a Varese per gli allenamenti di preparazione e non solo. È una realtà importante, siamo sicuri che questo polo, che è un polo di eccellenza, merita attenzione da parte nostra e da parte della federazione, ma è facile lavorare con persone così competenti. E da ultimo le chiedo, lei che ha visitato innumerevoli campi di gara nella sua carriera, da un punto di vista paesaggistico, Lago di Varese, cosa ne pensa? Sono ieri molto contento di aver provato il campo direttamente, sono uscito in singolo di sera in maniera quasi furtiva per verificare le strutture, ma devo dire che il colpo d'occhio è bellissimo. Soprattutto all'imbronire c'è un tramonto meraviglioso e rende più bello e anche piacevole fare canottaggio, che rimane uno sport naturalistico perché si fa all'aria aperta senza inquinare. Questo fa lo spirito un po' di tutti, vivere la natura in maniera forte e qui devo dire la verità è veramente bello poter fare canottaggio. Davide Tizzano, vicepresidente della Federazione Italiana Canottaggio e Video Varese, è tutto. Grazie mille.